Ciao, mi chiamo Heidi, sono al quarto anno delle superiori e sto facendo un istituto sociale che si chiama Giulia, a Torino. Qui stiamo facendo un workshop con uno scambio internazionale, quindi ci sono persone da vari paesi dell'Europa. Quest'anno trattiamo l'identità e gli stereotipi, infatti ogni lavoro gioia intorno a questi due elementi. Ci sono due tipi di animazione, quello normale a cartone, quelli con il bongo, la sitcom che io sto facendo, il tabletop, il documentario e il reportage. Grazie mille, ciao!